bentornati al morso io sono costantino e io sono emilio ciao ciao emilio buon pomeriggio buon pomeriggio a te come va? dopo i problemi di audio bene siamo usciti pazzi una settimana l'audio e il podcast è davvero complesso sembra una stupidaggine registrare questa retta insieme però ci sono dietro tanti tanti meccanismi e nella puntata precedente me ne scuso ce ne scusiamo con i nostri ascoltatori per l'audio poco curato mi sono accorto anzi emilio con il suo orecchio assoluto si è accorto di un problema nella fase di registrazione lato mio per farla breve c'era un driver su macos ventura che non girava come doveva quindi andava un po in distorsione tutta la parte audio problema risolto però solo grazie appunto all'orecchio ultrasensibile di emilio e vabbè cosa che capitano dai tra l'altro era da un po che non registravamo con frequenza quindi ci può stare qualche defiance da questo punto di vista l'importante è averlo risolto al meglio ecco e risolvere sì infatti infatti allora niente ci siamo oramai iphone in spedizione oramai credo siano già arrivati a destinazione in tutti gli store perché erano partiti settimana scorsa quindi primo argomento della giornata della puntata sono sono gli iphone no che oramai sembra sicuro purtroppo per tutti questo aumento dei prezzi non tanto per i 15 normale ma per i pro eh sì ahimè siamo arrivati al punto in cui ci sarà un nuovo price bump e questo è che non possiamo farci nulla se non sottostare alle politiche commerciali di apple tra l'altro non sperare troppo che prima o poi i prezzi si abbasseranno perché ormai apple quando alza alza in maniera indefinita e al più possiamo sperare di avere qualche feature tra virgolette pro nei modelli nei modelli base per provare a risparmiare qualcosa però ci sta insomma che i prezzi aumentino col passare degli anni anche perché l'inflazione è quella che è a livello globale e quindi è nell'ordine delle cose certo ormai una volta che hanno sdoganato i mille dollari con l'iphone 10 penso che a breve si sdoganeranno i duemila eventualmente e non sarà una bella notizia per tutti anche se immagino che già duemila si ci arriva facilmente se incominci a pompare storage accessori quello sicuro quello se prendi un max o come si chiamerà c'è il modello di top dei pro e lo metti al massimo come come storage secondo me se non arrivi a duemila quasi quindi insomma prezzi alti che però appunto a me non stupisce più di tanto perché un po in giro da quest'estate io esulando un po da apple parlando un po di vita sociale normale io vedo un aumento dei prezzi continuo in tutto la piscina dei bambini il mensile della palestra insomma c'è tutto quanto più caro quindi non mi stupisce più di tanto che anche apple abbia un po alza di prezzi tra l'altro prezzi che comunque erano rimasti intoccati negli ultimi due anni quindi insomma è una cosa più o meno naturale poi loro lo giustificano con questa aggiunta del titanio questi nuovi comparto di camera che ci sarà nella versione max con lenti a periscopio e quindi lo giustificano insomma un po così a proposito di comparto camera proprio in questi in queste ore google con i suoi pixel sta lanciando una campagna denigratoria per quanto riguarda gli iphone non so se hai visto ci sono questi cetrioli e queste fette di cetriolo attaccate ai pixel e lo slogan dice in questo periodo pieno e denso di eventi perché non prendersi una pausa in una spa faccio fatica a dargli un senso commerciale però però il comparto camera dell'iphone pro è davvero brutto lo diciamo da da mesi da un anno ci può stare insomma touche se la prendono e cercano di risolvere questo problema sì per carità insomma ormai ne abbiamo parlato penso che non sia più tra le priorità di apple quella di lavorare su assolutamente lo spessore del degli iphone ormai queste cose sono sdoganate tra l'altro onestamente non che i pixel mi facciano impazzire con il camera bump dietro diciamo è più simmetrico nel senso che ti evita questo giochino poggiandolo sul tavolo però insomma non è proprio il massimo della vita sembra ma ti dirò a me non dispiace più di tanto eh cioè non voglio sembrare impopolare tra i nostri ascoltatori però a me non dispiace c'è questa quest'unica linea di continuità dietro che poi può anche essere riutilizzata a mo' di supporto per inclinarlo un po' quando ce l'hai sul tavolo a me non è una cosa che dispiace quantomeno è sicuramente meglio di questo quadrato appiccicato di dietro sì diciamo che è più ergonomico però non è proprio bellissimo a mio modesto parere no figurati queste come come in tutte le cose di bellezza di estetica vige una una regola base che è quella che è tutto molto personale quindi probabilmente a Tim Cook piacciono anche questi 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 bump quindi figurati senti allora per quanto riguarda quindi i rumors dell'ultimo minuto non mi sembra che ci sia nulla di nuovo quindi a 17 sugli iphone 14 però porta usb c sugli iphone 15 normale mentre usb c barra thunderbolt oppure usb c barra 3.2 sui 15 però quindi che permetteranno una ricarica più veloce velocità maggiore per il trasferimento poi ci sono questi colori questi nuovi colori che sono il titanio e altro e non mi sembra di dimenticare nulla tu hai visto qualcos'altro come come rumors confermati nell'ultimo momento no credo per me sappiamo tutto sui colori mi soffermerei un attimo un po' tristi se devo essere sincero a leggere la descrizione a vedere un po' di di mock che sono stati fatti ipotizzando le creazioni di colore secondo me apple ha fatto molto di meglio in passato con le colorazioni dei propri device anche gli ultimi apple watch non sono granché quelli che devo se devo essere sincero preferivo colori un pochino più vivaci e felici se vogliamo definirli così vabbè tanto questa generazione mi tengo il portafogli chiuso non ho niente da comprare spending review spending review assolutamente sì assolutamente ma sai cosa penso io credo che loro abbiano un problema tangibile relativamente alla gestione dei colori quindi alla colorazione del titanio se se ci pensi anche gli apple watch ultra ad oggi quindi l'apple watch ultra unico che c'è ha un'unica colorazione proprio perché secondo me ci sono delle difficoltà non indifferenti nel mantenere il colore o comunque nel gestire la la gradazione la tonalità del colore probabilmente è per questo che hanno questi colori un po' smorti quindi questo titan gray blu silver e questo space black che sembrano essere colori molto seriosi no che con cui si accoppia il nome 15 pro il binomio 15 pro con la colorazione oppure proprio hanno voluto dare una tonalità seriosa appunto a questa serie di telefoni che sono riservate ad un mercato pro chissà ma ci sono dei vantaggi pratici nell'utilizzo del titanio a parte aumentare il prezzo e farlo sembrare una cosa un po' più spaziale ma dovrebbero essere più leggeri a leggere quello che ho visto io credo che ci sia un risparmio di una quarantina di grammi 40 50 grammi in totale e poi si sporca meno cioè dire se ti ricordi uno dei gate di quando uscì l'iphone 13 pro poi si è riportato anche sul 14 pro e il fatto che quando lo tieni senza cover le impronte digitali sono evidenti sulla parte sullo chassis credo che siano queste due e poi probabilmente anche più durabile dell'acciaio può darsi speriamo anche perché l'acciaio si almeno il mio è caduto un po' di volte non in maniera esagerata si ammacca leggermente si graffia insomma si nota si graffia sì io anche a me è caduto con tutta la custodia è caduto e si è graffiato quindi figurati io non credo che una caduta di un iphone 15 pro sia completamente esente da graffie però probabilmente è più durevole il materiale poi sai Emilio siamo sempre lì cioè qualcosa di nuovo la devono mettere altrimenti diventa complicato giustificare un upgrade ogni anno quindi qualcosa la devono pur fare ah poi ci sono ecco cosa che ci dimenticavamo sia io che te ci sono i display no? sembra che siano un po' più larghi sia sul 15 pro che il 15 pro max quindi si guadagna credo mezzo meno di mezzo pollice quindi zero virgola qualcosa quindi lo schermo sarà un po' più grande non so come questa cosa verrà gestita a livello di dev perché ancora non se ne sa nulla quindi se c'è un'ulteriore nuova dimensione in pixel intendo in punti oppure se semplicemente c'è uno scaling up delle dimensioni attuali che abbiamo sui 13 pro e 14 pro non saprei ma in ogni caso ormai diciamo le tecniche di sviluppo prescindono dai punti dai pixel quindi le UI ormai oggi sono abbastanza fluide da adattarsi quindi Apple ha le mani abbastanza libere da questo punto di vista può decidere di fare quello che gli pare sembra davvero passato se ci pensi un decennio almeno invece è molto meno dai tempi in cui c'era storyboard e tutte quelle cose che giravano attorno a storyboard è quasi sorprendente come cambia velocemente anche le tecniche di sviluppo attorno ad un ecosistema sì sì a voglia dieci anni fa le cose erano nettamente diverse ma anche più recentemente quindi è vero poi uno non si guarda mai indietro perché guarda sempre avanti però le cose sono cambiate in maniera drastica poi sai ci sono dei momenti di passaggio dove effettivamente il cambiamento è sostanziale poi anni invece un pochino più tranquilli però quando succede bisogna salire sul treno altrimenti se rimani indietro poi è la fine fai il doppio della fatica per recuperare già 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 senti in questi giorni è arrivata anche bazica questo rumor molto aleatorio in cui si vuole un iPhone Ultra che uscirà dopo i Vision Pro quindi presumibilmente fine 2024 che dovrebbe includere un nuovo bump speed per quanto riguarda il comparto camera e permettere la cattura di immagini 3D proprio per il Vision Pro io ci avevo pensato a questa cosa qui cioè direi utilizzare il leader scanner sai che i nostri iPhone sono dotati di questo sensore che permette di avere dimensioni e distanze degli oggetti attorno e ci sono tante applicazioni in giro che ti permettono di ricreare un ambiente sai queste applicazioni per architetti ingegneri eccetera ti permettono di ricreare l'ambiente di una stanza secondo me non è molto distante il passaggio da questo a creare delle profondità multiple per gli scatti di fotografie almeno sicuramente Apple è in grado di farlo meglio di chiunque di noi è interessante quest'idea in generale poi non so se vedrà da luce o meno però poter aggiungere delle informazioni a questo nuovo ecosistema che si sta creando attraverso un altro oggetto appartenente allo stesso ecosistema appunto non è male come idea sì non credo però che ci sia bisogno di un altro prodotto Ultra per una funzionalità del genere immagino che le tecnologie attuali possano essere applicate anche ai prodotti esistenti faccio fatica a credere che Apple rilasci un iPhone fuori dalle solite finestre di timeline a parte l'SE che è comunque una storia a parte però mi aspetto che se esce un iPhone Ultra esce a questo giro di giostra ma per rimpiazzare più a livello commerciale o di marketing il Max che non come un prodotto alternativo o nuovo sì probabilmente sarà parte appunto di quello che dicevamo prima questi aggiornamenti giustificati per i bump annuali makes sense senti invece avevo un dubbio riguardo le SIM sai se ne fa un gran parlare di queste SIM elettroniche eccetera tra l'altro il mio operatore che è Iliad adesso ti permette di sostituire la SIM attuale che hai con una SIM elettronica in maniera molto veloce una procedura veloce oppure semplicemente comprarne un'elettronica queste eSIM così come fanno tanti altri operatori Vodafone credo anche Team e tanti altri sentivo che molti degli iPhone 15 Pro credo anche degli iPhone 15 saranno senza SIM in determinate regioni quindi in determinate country avranno questa mancheranno del cassettino dove si mette la SIM che tu sappia questa cosa qui in Italia sarà applicata oppure avremo il classico iPhone con il cassettino non credo che sarà applicata in Italia perché comunque l'Italia rimane ancora un paese molto legato alla SIM fisica insomma sarebbe un non dico che ci sarebbe una rivolta popolare però probabilmente molti utenti si lamenterebbero da questo punto di vista quindi se manterranno una differenziazione di prodotto quindi con SIM e senza SIM io credo che in Italia continueranno a mantenere la SIM fisica come opzione peccato peccato perché io ho già una SIM elettronica che utilizzo per lavoro mi sarebbe piaciuto avere due slot perché immagino che appunto questi qui senza SIM avranno due slot elettronici mi sarebbe piaciuto avere tutto elettronico vabbè poco importa insomma più che altro una curiosità invece sembra confermata quella battuta che facevamo un paio di puntate fa relativamente all'approccio di Apple con l'ecologia cioè dire sembra che anche i cinturini degli Apple Watch in pelle che ci sono attualmente verranno dismessi in favore di questo nuovo materiale che verrà utilizzato sia per le custodie sia appunto per i nuovi cinturini non so se hai letto sì l'ho letto e sono curioso di vederlo perché un materiale nuovo potrebbe essere migliore del vecchio diciamo che le cover in pelle comunque invecchiano bene sono gradevoli ci dispiaceva il fatto che venissero dismesse però quando Apple introduce un nuovo materiale è sempre interessante vedere cosa viene fuori magari troviamo qualcosa di meglio del classico silicone sono abbastanza curioso sì infatti anch'io proprio l'invecchiamento del materiale mi piacerebbe capire cosa succede vedremo chissà se saranno compatibili anche con i vecchi iPhone per chi non aggiorna questo è un po' più dura di solito quando fanno le nuove cover sono sempre per i modelli nuovi poi sai cambia sempre 4 mm a destra 2 a sinistra e poi non funzionano così mai quindi non ci giurerei su questo sì infatti senti invece per quanto riguarda iPad iPad Pro i rumors si fanno sempre più insistenti addirittura non so se hai letto immagino di sì sembrerebbe che Apple era su un procinto di rilasciare un iPad 14 poli poi per problemi legati alla catena di produzione dei display sempre lì si batte il dente non l'ha fatto mentre sembra che oramai sia quasi sicuro il lancio di questi iPad nuovi a metà del 2024 insomma un po' dovunque non so se guardi tu la guida all'utente per l'acquisto che c'è su Mac Rumors gli iPad sono flaggati come don't buy quindi sembra siamo alla fine di un prodotto è quello che diceva Garman forse è vero cioè dire insomma questi nuovi prodotti che arriveranno avranno dei cambiamenti sensazionali dentro no? a parte questa stupidaggine della tastiera in alluminio eccetera insomma non so se hai letto una bagianata davvero incredibile però forse che ci sarà questo cambio di rotta ci sarà non ci sarà non lo so io comunque non non sottovaluterei una nuova tastiera che possa rendere l'iPad più computer e meno tablet anche perché ho letto di alcuni rumor che non confermati che volevano per esempio includere all'interno della tastiera esterna una batteria aggiuntiva che ti aumentava la capacità della batteria diciamo inclusa all'interno dell'iPad perché ad oggi se non sbaglio i Mac hanno una autonomia maggiore rispetto agli iPod che fino a qualche anno fa sembrava una follia però in realtà ad oggi è così e quindi tra le strategie di Apple per rivitalizzare un po' l'ecosistema iPad come personal computer c'è anche quella di estenderne la capacità o meglio delegare a diciamo questa tastiera chiamiamola così che poi in realtà si trasformerebbe in un vero e proprio case del device alcune peculiarità dei portatili quindi trackpad più grandi anche forse si parlava anche di materiali quindi invece di utilizzare che ne so la gomma la plastica come adesso utilizzare l'alluminio e cose di questo tipo quindi queste sperimentazioni possono essere interessanti di contro non mi aspetto che ci saranno grosse novità a livello hardware se no la cpu più potente magari utilizzare una tecnologia di display più avanzata rispetto a quello di Erna poi siamo sempre lì il problema di iPad rimane il software finché non aggiustano quello puoi fare l'hardware migliore del mondo ma tutti preferiranno un mac per lavorare permettimi di essere un po' dubbioso su questa su questa cosa qui numero uno per una combo di prezzo cioè dire se tu pensi un attimino fai mente locale un iPad Pro più una tastiera descritta da te quindi come con case batteria eccetera si leggeva già da qualche parte su Reddit credo che ci sia un aumento dei prezzi scontato e quindi iPad più tastiera grosso modo supererebbero il base di un MacBook Air dove sta il guadagno cioè perché un manager dovrebbe essere intenzionato a comprare un iPad piuttosto che un MacBook Air per la portabilità no per la batteria no per l'utilizzo senza tastiera ma allora perché ci metti la tastiera insomma secondo me boh non è una cosa che ha una vita lunga questa cosa qua e poi l'altra volta parlavamo del software vero verissimo adesso iPad se sai con stage manager e tutto il resto ti permette di fare multitask eccetera però non sottovalutiamo la volta scorsa non lo abbiamo detto oltre al sistema operativo c'è di mezzo un altro grosso impedimento che è quello del fatto che le applicazioni su App Store devono passare al baglio di Apple cosa che invece ad oggi non succede neanche con l'ultimo Mac OS con ventura cioè dire comunque se è un'applicazione molto particolare e quindi fa delle cose strane ad esempio come il driver che ho comprato per registrare il nostro podcast e quindi si installa come estensione del kernel eccetera eccetera lo sviluppatore ha la possibilità di non passare da App Store e di rilasciarlo con un suo store privato eccetera insomma c'è una flessibilità a 360 gradi per quanto riguarda lo sviluppo terzo cose che invece non c'è per iPad perché lì gioco forza l'applicazione la devi scaricare da App Store sì tutto vero però tra le cose che hai detto c'è una cosa che si è scordato che è esclusiva dell'iPad il fatto che ha il touchscreen e per alcune applicazioni questo è un plus non da poco poter utilizzare la penna poter per esempio mi immagino gli artisti grafici designer anche gli architetti o gli ingegneri se vuoi potrebbero trovare dei casi d'uso molto interessanti su iPad che non possano avere su Mac tra l'altro se non sbaglio Microsoft fa un Surface che è diciamo convertibile può essere utilizzato sia da tablet che da computer con un grosso case sotto mi pare si chiami Surface Laptop Studio qualcosa quindi se Apple decide di andare a competere in quel segmento lì deve fare qualcosa di paragonabile se no l'alternativa è che iPad rimane un iPad e Mac OS rimane il Mac rimane il Mac e i due mondi non si intersegheranno mai però secondo me Apple vuole provare comunque a trovare una strada chiamiamola professionale per quanto riguarda iPad altrimenti non investirebbe così tanto su iPad magari dal display più grande anche non investirebbe in immagine su prodotti tipo iPad Pro che comunque rimangono molto costosi a prescindere dal fatto che abbiano degli accessori più o meno stravaganti quindi secondo me il grosso selling point di iPad rimane Apple Pencil se tu sei un utente che sfrutta tantissimo quell'accessorio lì e quel modo di utilizzare un computer allora l'iPad diventa quasi insostituibile cioè il Mac non te lo posso sostituire in nessun modo a meno di avere delle tavolette grafiche che però non saranno mai performanti come te che scrivi direttamente sul display quindi secondo me ancora c'è dello spazio per provare a sfondare in quella direzione se ci riusciranno dipenderà molto anche dal software come dicevo prima come ho sempre detto altrimenti potrebbe rimanere sempre un vorrei ma non posso ecco sì tutto giustissimo io mi riferivo appunto a prodotti un po' più di nicchia chiaramente la parte di tastiera barra touchscreen è insostituibile e quello probabilmente come dici tu è il grosso punto di forza dell'iPad però ad esempio l'anno scorso scusami non l'anno scorso a questo WWC se non ricordo male è stato è stato presentato Logic Pro per iPad ebbene se tu vai a guardare un po' nei vari forum di audiofili e gente che ci lavora con Logic vedrai che molti si lamentano del fatto che case importantissime di terze parti non producono i VST quindi i plugin che servono a Logic per funzionare quindi per filtrare equalizzatori eccetera e questo perché molte case non investono quando poi hanno dei problemi delle barriere legate appunto all'App Store non lo so Emilio quello che dici è giusto cioè dire il grosso valore aggiunto dell'iPad è la penna è lo scrivere sopra il display che ha una precisione ineguagliabile eccetera eccetera però questo secondo me non lo rende come loro vorrebbero venderlo un sostituto del computer tanto che sembra che ci sia nell'aria l'aggiunta di un ulteriore udite udite nuovo computer all'interno della platea dei computer della Apple di Tim Cook sembra che ci sia un ritorno non so se ti ricordi inizio anni 2000 ci furono gli iBook in policarbonato che erano appunto l'entry level il punto di entrata nel mondo Mac e appunto questo rumors non confermato racconta di questa nuova intenzione di Apple di arrivare e competere con i Chromebook di Google utilizzando materiali meno nobili quindi niente alluminio probabilmente del policarbonato e anche delle meccaniche della componentistica un po' più scadente questo appunto per entrare in un selling point minimo non lo so secondo me c'è un po' di confusione torniamo sempre lì c'è dire questo nuovo Macbook che poi magari non sarà vero però comunque se fosse vero sarebbe un ulteriore ingresso poi ci sono i Macbook Macbook Pro Pro con schermi più grandi poi c'è questo iPad che dovrebbe in qualche modo stare in mezzo no? cioè unire questi insiemi diversi secondo me c'è troppa carne al fuoco secondo me non c'è niente di vero cioè un Macbook diciamo entry level di quel tipo per come lo pensano non ha nessun senso di esistere o meglio competere con i Chromebook non ha nessun senso di esistere perché il prodotto che compete con i Chromebook al momento c'è nella line up di Apple ed è l'iPad perché se tu prendi un Chromebook hai molte più limitazioni software di quelle che hai con iPadOS e quindi io non vedo perché ci sia bisogno di un Mac con MacOS per andare a competere in quel segmento lì tra l'altro gli iBook io me li ricordo benissimo ma tutto erano tranne che economici cioè forse il modello entry level che era il 12 pollici costava 1000 dollari se non sbaglio però poi già si saliva facile a 1400 1600 man mano che che salivi di screen size di CPU quindi i Chromebook non hanno quelle fasce di prezzo chi compra un Chromebook lo fa perché costano 399 dollari cioè siamo lì ed Apple non riuscirà mai a creare un prodotto in quel in quel segmento di prezzo non non c'è mai riuscita Apple a fare ad andare così in basso nel nel mercato perché non è nel suo DNA cioè tutte le volte che ha provato a creare prodotti economici mi viene da pensare l'iPhone SE non è quasi mai riuscita a sfondare o a capire effettivamente il mondo dei prodotti a basso costo perché non fa parte della sua cultura cioè Apple non farà mai un prodotto cheap dove per cheap intendo plastiche brutte rigide che ingialliscono cose di questo tipo qua almeno questo è il mio punto di vista poi magari la storia mi dirà che ho sbagliato ma io non credo che Apple si stia stracciando le vesti per andare a competere in un mercato in cui è perdente già in partenza è l'unico prodotto che negli anni ha sponsorizzato come vero sostituto del Chromebook e l'iPad e quindi credo che abbia più senso investire in quella direzione che non avventurarsi in spericolate peripezie a proposito di limitazioni degli store volevo discutere con te di una cosa che stai facendo un attimino mente locale la sera mi è tornata la mente ma sbaglio o iOS 17 doveva essere il nuovo punto di ingresso e finalmente la fine della diatriba app store non app store epic non epic dando la possibilità di fare side loading delle app ne abbiamo parlato se ne parlava tanto ma non se ne è saputo più nulla io immagino che ci sia no non se ne è saputo più nulla immagino che ci sia un side project nascosto all'interno di Apple che tutta questa storia qui l'ha già prevista implementata e che si aspetta semplicemente un obbligo da parte delle istituzioni che appunto obblighi Apple a fare una cosa del genere e a quel punto loro diranno va bene ok ce l'abbiamo lo lanciamo ma finché non verranno obbligati loro non lo non lo faranno mai sicuro ce l'hanno qualcosa ma non non l'hanno presentata al pubblico se ci saranno novità da questo punto di vista può essere credo che ci siano delle deadline a livello di comunità europea su queste su questi temi per l'anno prossimo forse se non ricordo male quindi potrebbe essere anche un una funzionalità che arriverà in corso di anno come upgrade del di iOS 17 però ripeto secondo me finché non verranno obbligati con una legge ad hoc non faranno nulla ma credo che la cosa sia molto più veloce nel senso che entro l'anno loro dovrebbero comunque dichiarare la disponibilità da questo punto di vista avevo letto qualcosa ad esempio anche legata dai message che rientra nello stesso gioco in pratica semplificando molto perché non mi appartiene il legalese fuori di meno il legalese di tipo di carattere europeo però semplificando molto sembrerebbe che quando superi come company quindi come fornitrice di un servizio i 45 milioni di utenti nella comunità europea sei obbligato a rendere open il prodotto o meglio sei obbligato a rendere abili ad interagire con questo prodotto in maniera più libera e quindi lo store sembra che sia chiaramente in questa condizione di gatekeeping perché Apple più volte ha detto che ha superato i 100 milioni di utenti insomma quindi da questo punto di vista l'app store dovranno chiaramente fare qualcosa lo faranno entro l'anno lo faranno l'anno prossimo non si sa quello che resta in sospeso invece è iMessage che anche lui sembra essere pronto per il prossimo scandalo perché anche quello numeri alla mano dovremmo essere lì insomma non è il primo non è il più popolare sistema di messaggistica ma dato il numero di iPhone che vengono venduti ripeto in tutta la comunità europea probabilmente se non ci arriva quest'anno ci arriverà l'anno prossimo a superare questo numero dei 45 milioni e a quel punto iMessage in qualche modo dovrà essere reso aperto per produttori terzi che vogliono interagire con esso ma onestamente non vedo il rischio anche perché insomma ci sono altri competitor nello stesso settore che abbondantemente superano 45 milioni solo in Italia mi viene da pensare a Whatsapp e non mi pare che siano aperti o dei soggetti terzi possano intervenire sul protocollo o creare dei client per esempio di terze parti o cose del genere quindi no però aspetta Emilio mi sono espresso male il problema non è quello il problema è che iMessage è fornito come sistema integrato all'interno degli iPhone Whatsapp no Whatsapp sei libero di scaricarlo o meno iMessage invece è fornito all'interno del sistema operativo e non hai modo di diciamo utilizzare siamo sempre lì ti ricordi la storia quella del default per le email su Android tu puoi utilizzare che so Signal come Messenger di default oppure Google Chat oppure Whatsapp insomma hai questa possibilità di renderlo sistema di default mentre su iOS no cioè iMessage ma cosa intendi per default non esiste un protocollo per mandare un messaggio di default no però su Android tu puoi impostare non so se l'hai mai provato però ad esempio io lo utilizzo con Signal quando voglio mandare un messaggio dovunque mi trovo e qualunque applicazione utilizzo Signal è l'applicazione candidata e mi permette di inviare SMS mi permette di ricevere messaggi Signal e così via cioè dire è l'applicazione sarebbe la controparte di iMessage su Android se la scelgo io oppure posso utilizzare qualcos'altro su iPhone questa cosa qui non è possibile cioè dire iMessage è parte integrante cioè se tu vuoi inviare un SMS devi passare da iMessage ah sì per gli SMS sì lo sì questa qui è credo la cosa che però scusa con Signal non puoi inviare un SMS sì sì certo che sì puoi inviare lui va in default con SMS in che senso va in default con SMS non capisco allora se tu lo imposti come applicazione di default quando invii un messaggio se la controparte non ha Signal installato lui invia un SMS perché fa parte dello stack che ti viene messo a disposizione da Android come message framework chiamiamolo così non so come si chiami cioè puoi inviare SMS attraverso questa piattaforma cioè il il sistema operativo cosa che non possiamo fare con IOS ma non attraverso Signal cioè tu sì 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 tu apri l'app Signal e mandi SMS e mandi SMS yes sembra strano ma è così io non ho utilizzo quello come cioè sull'Android che ho ho Signal come applicazione di base per fare questo gioco qui sembra strano però è così cioè ti permettono di farla questa cosa qua ti permettono di riceverli ma credo che ce ne siano anche altri ora probabilmente Whatsapp questa cosa qua non la fa non ti permette di utilizzarlo come sistema integrato per fare tutto quanto però ce ne sono anche altre che ti permettono di farlo e quello che Apple ha fatto negli anni passati è stato di integrare tutte le app di messaggistica all'interno dei contatti per esempio per cui tu da lì puoi quando gli dici manda un messaggio puoi scegliere di utilizzare non iMessage ma qualsiasi altro client diciamo compatibile con il framework dei contatti secondo me questo per Apple è più che sufficiente per sguinzogliare i legali e dire noi siamo compliance con qualsiasi cosa ci chiedete? allora guarda giusto per perché poi chi ci ascolta magari sente cavolate ho guardato sul supporto di Signal quello che ti dico te lo confermo però stanno rimuovendo il supporto SMS c'è proprio una una dicitura qui io ora non è che lo utilizzi così tanto Android però appunto ricordavo che lo facevo e qua dice Signal Signal is removing SMS support in Android which we announced here cioè c'è un annuncio che hanno dato in anticipo però dicono to move SMS to another messaging app follow step here quindi comunque questo è segno che quello che ti dico ha un fondamento ci saranno tante altre app che ti permettono di fare questa cosa qua ma questo è proprio nel DNA di Android no? cioè il framework di messaggistica è scorporato cioè dire chi lo integra lo può utilizzare per intero quindi SMS o altro e credo che la comunità europea si attacchi a questo per tornare al nostro discorso cioè dire il fatto che iOS invece non è così iMessage è l'unico meccanismo che hai per dialogare con il mondo vabbè sì ripeto non la vedo una cosa molto pericolosa da questo punto di vista per Apple però ci può stare che si attaccano a questo cioè a me mi fanno più paura o comunque è più pericoloso è probabile invece che impongano ad Apple l'introduzione di sistemi per rompere per esempio sistemi di criptografia end to end per permettere ai governi e agli stati di leggere messaggi privati o criptografati quello la vedo una cosa più probabile però come ha detto già Apple loro preferiscono rimuovere dal mercato il prodotto piuttosto che fare una cosa del genere quindi da questo punto di vista mi sento abbastanza sicuro tra tutti i message lo vedo è il meno pericoloso ad avere degli obblighi da un punto di vista legale per quanto riguarda le istituzioni e i governi però ripeto è più una sensazione la mia che non una sensazione percepita ecco più che altro sì questa cosa della criptografia sicuramente ne sentiremo parlare nei prossimi mesi nei prossimi anni diventerà sempre più un problema argomento giornaliero odierno che dire Apple sì ha detto questo cioè insomma preferisce togliere il servizio si riferiva all'Inghilterra che vorrebbe avere spazio di manovra appunto sulle conversazioni degli utenti però c'è anche da dire il rovescio della medaglia insomma questo non è quello che ha fatto con la Cina ricordo a tutti noi che iCloud in Cina deve passare tutti i dati devono transitare su dei server cinesi il fatto Apple continua a dire che le chiavi sono soltanto in suo possesso eccetera eccetera però sfido chiunque e sappiamo come funziona il mercato cinese sfido chiunque a dire che in caso di una qualsiasi controversia Apple non sia obbligata a dare queste chiavi al al governo cinese probabile ma io credo che i message in Cina sia assolutamente marginale non credo esista un solo cinese che utilizzia i message sì probabile ci poniamo problemi che non esistono senti invece sembra che oramai confermato che Journal quindi l'applicazione di diario non ci sarà con il lancio di OS17 così come le playlist collaborative non faranno parte del lancio tutte i feature che arriveranno nel corso appunto dell'anno non si sa bene quando insieme alla famosa funzione di Airdrop anche essa non verrà rilasciata quella che sai ti permette di continuare un upload verso un altro dispositivo anche quando vi allontanate attraverso rete wifi o cellulare quindi le tre grosse cose di cui si parlava arriveranno dopo mentre invece tutto il resto sembra che sarà facente parte della della release iniziale che quest'anno udite udite qualcuno sostiene che uscirà in contemporanea iOS e iPadOS che è cosa buona e giusta visto che sti cosi sono culo e camicia come si dice e sono estremamente integrati quindi mi pare che sia stato sia successo un paio di volte al massimo tre che non siano usciti in sincronia ed è stato un bel bagno di sangue almeno per quanto mi riguarda per cui questa è una cosa positiva su macOS ormai stendiamo un bello pietoso perché rilasciano sempre un mese più tardi però iPadOS e iOS insieme sono benvenuti invece una domanda ti faccio secondo te il fatto di non presentare tutte le feature alla release zero chiamiamola così è una scelta di marketing o una scelta o diciamo un problema di tipo tecnico per cui non ce la fanno a fare tutto in tempo e quindi posticipano perché ormai è una costante cioè se ci fai caso ogni anno molte feature presentate a WWDC le introducono poi nella release primaverile diciamo così e mi chiedo se sia una scelta di tipo commerciale di marketing in modo da avere un altro punto nell'anno per spingere la vendita magari di nuovi device per dice iOS 17 ha queste nuove feature quindi compratevi l'iPhone nuovo eccetera eccetera oppure semplicemente non ci arrivano ma tutte e due Emilio secondo me non ti dico che concorrono al 50 e 50 però chiaramente a dover scegliere cosa sacrificare per un aggiornamento di un sistema operativo così importante probabilmente questa ha una sua valenza nel rilascio così come come dici tu trovo anche abbastanza ragionevole il fatto che si mantenga lo hype alto quindi continuando a rilasciare in maniera cadenzata queste release per promuovere in qualche modo e mantenere le vendite però secondo me il driver principale è legato all'efficienza di rilascio cioè dire ripeto se devi scegliere qualcosa probabilmente Journal la lasci da parte piuttosto che la playlist collaborativa e permetti agli sviluppatori di concentrarsi soltanto sulle feature principali questo è un aspetto ragionevole poi chiaramente bisogna anche vedere se questi team non sono assolutamente sandboxed tra di loro cioè magari chi sta lavorando a Journal non ne capisce nulla e non ne vuole capire nulla del di iMessage oppure di qualche funzionalità a livello core di iOS 17 quindi probabilmente quello che ti dico non trova valenza se così fosse però secondo me un po' tutte e due sì è vero sono diventate è diventata una costante questa cosa qua quindi probabilmente hanno un po' e un po' a me non mi può pace sta cosa che Apple abbia problemi di capaciti sviluppatori ma sai è una il vecchio detto che nove donne non fanno un bambino in un mese è un po' una verità scontata ma che un po' si scontra con tutto insomma anche nelle grandi realtà chiaramente Apple ha una capacità di fuoco sicuramente maggiore quindi magari il detto in sé non trova una valenza precisa però per quanto tu possa avere denari da spendere sai coordinare dei team non è operazione semplice probabilmente a proposito di team c'è un grosso interesse degli sviluppatori quindi hanno dato una bella risposta a Garman che nella sua newsletter di qualche settimana fa diceva che c'è veramente poco interesse da parte e ne avevamo anche parlato l'avevo citata o forse l'avevi citata tu non mi ricordo appunto si diceva che Garman diceva c'è poco interesse degli sviluppatori verso i Vision Pro vuoi perché questi lab test sono dislocati soltanto in alcune parti del globo vuoi perché boh non c'è un interesse però Garman era un po' scettico mentre sono scesi in campo direttamente gli interessati Sinclair se non ricordo male che intervistati hanno detto che c'è stato un grosso superamento delle aspettative rispetto ai download dell'SDK tra parentesi io non l'ho ancora scaricata e ci hanno anche un grosso interesse verso questo nuovo ambiente mi sembra al minimo che le pubbliche relazioni di Apple si scatenino da questo punto di vista insomma di solito la verità sta in mezzo sicuramente c'è curiosità come quando Apple presenta cose nuove però dire che c'è la corsa iVision Pro adesso mi sembrerebbe un po' esagerato io se avessi avuto la possibilità ci sarei andato anche se comunque rimane un prodotto molto distante anche dalle mie expertise di sviluppatore ecco si parla di realtà aumentata di tutte queste tecnologie diciamo di computing spaziale da molti anni ormai non mi ricordo quando è stata la prima versione di iOS che ha introdotto il framework di realtà aumentata però io così come è entrata proprio l'ho saltata a pie pari io ad oggi non l'ho nemmeno mai visto per sbaglio un video del WWDC sulla realtà aumentata su questo mondo qua quindi più che altro mi incuriosisce lato utente più che lato sviluppatore anche perché non credo io tantissimo nell'implementazione di app banali per Vision Pro cioè ne ho viste passare di prototipi su Mastodon gli sviluppatori che ah sto portando la mia app su Vision Pro che poi che cos'è un timer cioè cose veramente che non hanno senso di esistere insomma no per carità non rido degli sviluppatori però fa ridere l'idea in sé insomma grosso chavo per la volontà insomma di conoscere un nuovo framework però portare un timer su Vision Pro insomma ecco non credo sia una grandissima idea o un best buy possibile però voglio dire da questo punto di vista si sta aprendo comunque Apple si sta facendo nuovamente capo di essere la portatrice della verità perché notizia di qualche giorno fa anche Meta insieme ad LG sembra che stia lavorando ad una nuova versione dei suoi visori di realtà aumentata mi riferisco a quelli di Facebook di Meta che ovviamente però andranno assolutamente fuori dall'attuale budget ricordo che gli attuali visori di Meta costano meno di 1000 dollari mentre questo nuovo modello che dovrebbe in qualche modo competere con i Vision Pro si attesterà oltre i 2000 dollari quindi anche loro sembra che stiano salendo di livello segno che il prezzo stimato perché ancora non si sa in concretezza quale sarà il prezzo di questi Vision Pro però non è un capriccio di Apple ma appunto un costo che è importante relativamente a tutto l'hardware che c'è dentro 12 telecamere microfoni schermi cosa sono 5k per occhio insomma c'è davvero tanta bella tecnologia sopra certo certo poi immagino anche che Meta cercherà di cavalcare un pochino l'hype che si creerà attorno a Vision Pro quando verranno ufficialmente rilasciati per cui si vorranno tenere pronti loro sono stati i pionieri di questo mondo e questa tecnologia hanno pure cambiato nome all'azienda per questo però mi pare se si parla un po' di Vision Pro almeno nei miei canali di informazione ormai di metaversi e cose del genere non ne sento parlare più quindi non è un buon segnale c'è stato anche il periodo di Spider-Man il metaverse insomma c'era questa parola che dovunque è un po' come la blockchain la mettevi dovunque questo metaverso lo potevi fare qualunque cosa invece adesso vero verità non se ne parla più tantissimo non lo so a proposito di Vision Pro mi viene naturale fare un accostamento con non so se hai visto le screenshot che sono passate su 9to5 e anche su su Mastodon relativamente alla nuova app Weather per il meteo che ci sarà con WatchOS 10 che è davvero stupefacente da un punto di vista di bellezza e grazia grafica e un po' ecco mi viene naturale questo paragone perché se ci pensi noi che siamo utenti Watch dalla prima versione mi sento di dire è cambiato tutto adesso queste applicazioni sono davvero belle ben fatte curate una grafica accattivante super colori sgargianti interazione con l'utente che supera il tocco il click e basta sono davvero ben fatte e chissà se non riusciranno davvero a fare questa evoluzione anche con questi visori tra 5 anni tra 6 anni ma probabilmente sì per quanto riguarda WatchOS sono molto curioso di rivedere questo redesign globale della piattaforma perché secondo me ci potranno essere degli spunti interessanti mi auguro che possa un po' rivitalizzare l'ecosistema delle app di terzi che al momento è inesistente e se voglio fare un parallelismo quello che mi preoccupa per Vision Pro è che succederà la stessa cosa per cui magari le app Apple saranno fatte bene utilissime bellissime bellissime però poi l'ecosistema sarà abbastanza mancante da questo punto di vista vediamo sì se posso permettermi perché ho le mani in pasta in questa cosa qua il grosso problema dei produttori terzi di software per Watch è Xcode cioè sviluppare debuggare e aggiungere funzionalità ad un'applicazione per Watch è devastante il Watch non si sincronizza spesso e volentieri con Xcode gli mancano dei simboli quando ci sono i simboli lui sostiene che sia lockato invece non è lockato poi ti dice che non è trusted mentre tu avevi premuto il bottone di trust sul Watch allora devi resettare l'Apple Watch devi resettare l'iPhone a cui è associato devi riavviare il Mac insomma è davvero devastante e ti parlo con cognizione di causa perché settimana scorsa abbiamo rilasciato un update che comprendeva un aggiornamento di Watch OS ed è stato davvero un bagno di sangue non è semplice cioè al di là se devi provare l'App e metterla come prototype sul simulatore allora sì però provarla testarla e vedere funzionalità su device reale non è semplice come lo con l'iPhone questo secondo me è un grosso ostacolo che c'è per gli sviluppatori terzi professionali sì no questo l'avevo sentito certo il fatto che Watch OS non abbia una porta fisica dove tu connetti direttamente è una grossa limitazione tra l'altro non ricordo se Vision Pro ha una porta fisica o no oppure mi pare di no mi pare di no però non vorrei dire una cavolata secondo me non c'è questo sarà un grosso problema speriamo che aggiornino i meccanismi di 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 responsività per Xcode perché altrimenti sarà davvero devastante sviluppare per per Vision Pro beh sai comunque sono anche dispositivi a me la parlo del Watch molto limitati dal punto di vista delle risorse computazionali quindi anche sai far passare un debugger dal wifi non è non è semplice però potrebbero in qualche modo agevolare gli sviluppatori cioè creare un connettore che si compra a parte con cui puoi attaccare l'Apple Watch per debugging insomma cioè agevolare gli sviluppatori che sono la base della popolarità del prodotto secondo me è il minimo sai cosa dovrebbero fare? è un simulatore per iPhone cioè tu installi un simulatore nell'iPhone di Apple Watch così puoi interagire col touch eccetera eccetera magari avere una che ne so digital crown virtuale o qualcosa del genere e non andare a debuggare direttamente sul sul watch sì potrebbe essere potrebbe anche essere insomma cioè dovrebbero rendere un po' più facile la vita degli sviluppatori perché ripeto sono loro il fenomeno la parte fondamentale della popolarità di un prodotto a proposito di prodotto e qui chiedo aiuto e supporto da te che sei il massimo esperto sicuramente addirittura sicuramente più di me Apple TV leggevo che hanno dimezzato i costi del season pass per l'MLF americano ma i diritti di calcio europeo che in Italia sono dati da Zone a Sky a quell'altro come mai Apple non è mai entrata in questo circuito perché costano un sacco di soldi mancano soldi ad Apple sai devono essere giustificati però in realtà MLS ha fatto il colpaccio quest'anno di prendersi Messi che ha detto di tutti che è il calciatore più forte del mondo e da lì hanno avuto un boost di popolarità e visibilità mostruoso all'interno degli Stati Uniti quindi lì Apple ha fatto il colpaccio perché se non ricordo male paga pure parte dello stipendio di Messi ci sono accordi abbastanza bizzarri da questo punto di vista quindi pur di prenderselo il movimento calcistico americano ha fatto le capriole per quanto riguarda l'Europa il calcio europeo a parte la Premier League che è un discorso appunto a parte soffre un momento di crisi per quanto riguarda la popolarità dei diritti televisivi un po' perché molte stelle se ne sono andate e un po' perché la Premier League è un campionato talmente più ricco che diciamo tutti i grandi campioni magari partono in Italia in Spagna in Germania e poi alla fine finiscono in Premier League quindi per quanto riguarda i diritti cioè non parlerei tanto di diritti europei ma andrei sulle singole leghe se Apple dovesse fare qualche passo avanti lo farebbe per la Premier però attenzione che i diritti sportivi non sono la stessa cosa del cinema o delle serie tv o di cose del genere perché l'evento sportivo oltre che mostrato ma anche raccontato al momento Apple non ha una redazione che ti permette il racconto di un evento sportivo cosa che per esempio Amazon Prime ha fatto per raccontare la Champions League in Italia si è dovuta a prendere a parte la questione tecnologica di trasmettere in streaming gli eventi però si è dovuta a prendere il commentatore il commento tecnico il pre partita il post partita cioè è un altro mestiere quello di dimostrare eventi sportivi in tv al netto ovviamente del fatto di poterlo fare perché hai acquisito i diritti quindi sai entrare in quel settore cioè o diventi semplicemente un canale di trasmissione per cui che ne so ti compri Sky per esempio o meglio ti compri l'evento da Sky e lo ritrasmetti tu così come esce dagli studi diciamo televisivi di Sky e allora in quel caso semplicemente ecco fai da streaming di un canale gestito da qualche altro altrimenti ti devi creare proprio la tua struttura editoriale e non è non è semplice cioè devi fare investimenti molto molto importanti poi ad oggi per esempio se vogliamo rimanere in Italia i diritti televisivi per il prossimo triennio non sono ancora stati assegnati perché la Lega vuole un importo che è molto superiore rispetto a quello che le tv sono in grado di offrire perché comunque c'è stato il crollo degli abbonamenti il calcio in tv non tira più come una volta quindi sai è un mercato disgraziato da questo punto di vista non mi stupisce che Apple ne sia rimasta fuori e ne voglia rimanere fuori ma quindi esatto mi hai predetto quindi non è una questione né economica né di capaciti ma è una volontà quella di Apple cioè non vede business nella cosa se capisco le tue parole secondo me no non vede business anche perché è proprio di fuori della sua cultura in America è un discorso a parte perché lì il calcio è in espansione ma non è lo sport più seguito assolutamente no per cui per gli Stati Uniti che loro è un mercato che conoscono meglio perché ovviamente sono locali lì possono fare delle valutazioni diverse ma io non credo che vogliano entrare in Europa sul calcio però correggimi se sbaglio loro in America hanno l'equivalente del nostro calcio del nostro football cioè hanno il baseball hanno l'NBA insomma ci sono queste queste leghe questi sport che vanno per la maggiore in America che comunque sono in qualche modo associati ad Apple TV mentre è diverso però perché lì le leghe che sono la lega del basket la lega del baseball hanno la loro cioè i diritti i diritti di trasmissione sono loro quindi Apple semplicemente li trasmette non cioè tu te li puoi vedere su Apple TV ma te li vedi anche sull'app della MLB ah quindi non c'è un'esclusiva come succede in Europa o comunque nelle nostre leghe esatto qui tu se ti prendi i diritti di trasmettere le partite però poi devi farti tu la tua struttura che le racconta quindi con il tuo commento con tutto quello che c'è attorno lì invece Apple va semplicemente tramite tecnologico non ho capito non fa nessuna produzione diciamo ho capito ho capito certo perché nella mia testa da assoluto ignorante del calcio immaginavo sai una volta c'era questo ostacolo oggettivo che era il fatto che non avevi il device l'Apple TV era poco venduta ce l'avevamo pochi pochi gatti insomma era una cosa davvero di nicchia però oramai tutti i televisori hanno l'app Apple TV dentro quindi non c'è più un ostacolo di tipo tecnologico per accedere alla piattaforma e magari poteva essere un modo per attirare fare traction di nuovi utenti era questa la mia idea e trovavo infatti bizzarro il fatto che Apple non si fosse neanche di lontano cimentata nella cosa però mi hai dato assolutamente una risposta sensata e valida quindi probabilmente Apple non vuole proprio entrare in questo mercato il calcio è un business in perdita al momento non tira utenti per niente tant'è che Dazon li ha visti calare nel corso del triennio in cui ha avuto i diritti televisivi e ora gli hanno proposto di ri perché quest'anno gli scade il contratto a Dazon e quindi per il prossimo triennio va fatta la gara la gara è andata non assegnata perché nessuno ha offerto abbastanza e hanno proposto a Dazon di prorogare il contratto di un altro anno alle stesse condizioni del contratto esistente quelli hanno detto no quindi viviamo in una situazione un po' strana ah non l'avrei detto però sai da osservatore esterno immaginavo che fosse un mercato rosa e fiori invece non è così no non è un mercato pieno di spina va bene va bene Emilio tempo scaduto ci vediamo settimana prossima allora con gli aggiornamenti vediamo se tutto quello che abbiamo raccontato avrà un qualche seguito reale nella vita reale della presentazione di Apple che ricordiamo è giorno 12 giorno 12 settembre quindi martedì prossimo sì sicuramente avremo azzeccato tutto se non le abbiamo azzeccate ci siamo andati vicini ci siamo andati vicini oppure Apple modificherà l'evento dopo aver ascoltato la nostra puntata vabbè sono curioso di sentire poi i commenti a caldo vedremo ok grazie ancora Emilio grazie a te ciao 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 Grazie a tutti.